Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale con il 55esimo episodio della Talk Season 2 Come potete vedere ragazzi siamo in cam, siamo in cam perché oggi prima di tutto però prima di tutto ragazzi Vi raccomando mi piace se ancora non l'avete lasciato, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti Il server è gentilmente offerto da Nitrado, il link è in descrizione Comunque stavo dicendo sono in webcam perché oggi è un giorno speciale sicuramente lo avrete letto dal titolo perché sì Signore e signori siamo in 1.18 nella Talk Finalmente abbiamo aggiornato il server alla 1.18 E questo video sarà un po' particolare perché non andremo a costruire niente Ma bensì vi andrò a dire delle cose che ci serviranno d'ora in poi appunto durante la Talk E vi voglio far vedere alcune cose che sono capitate diciamo durante l'aggiornamento alla 1.18 Intanto ragazzi mi volevo scusare se la Talk è mancata per un po' ma ve l'avevo detto Preferivo aspettare la 1.18 così da portarvi poi nuovi contenuti Comunque direi di iniziare Allora prima di tutto ragazzi sì siamo in creative, siamo in creative C'è un motivo, c'è un motivo Oggi andremo a fare delle cosette un po' particolari Allora intanto vi spiego come abbiamo strutturato questo aggiornamento alla 1.18 Praticamente abbiamo trasferito tra virgolette le basi vecchie, quella della vecchia zona Quindi quella di Tesla e quella di Bianca nella nuova zona Nella mappa che vedrete sicuramente adesso a schermo Una volta fatto questo abbiamo eliminato i chunk esplorati e inutilizzati In modo tale da rigenerarli i 1.18 E abbiamo fatto un lavoro certosino perché praticamente a 20 blocchi da ogni base Adesso è tutto generato nuovo E ragazzi sapete cosa vuol dire questo? E già praticamente il contorno della nostra base è cambiato Tutto ad eccezione di questa montagna che ho voluto mantenere E adesso iniziamo proprio da qua Perché volevo farvi vedere i cambiamenti intorno alla nostra base Quindi ovviamente io sono in creative per comodità per farvi vedere in volo appunto cosa è cambiato Voi vi starete chiedendo adesso Qui non è cambiato niente Qua a sinistra sì invece Vi ricordate che c'era una mega taiga? Adesso non c'è più la taiga Abbiamo un oceano di ghiaccio con gli iceberg Guardate che roba Cioè allora intanto qua come potete vedere c'è il limite dove diciamo ho resettato Ma oggi andremo ad aggiustare proprio questa cosa Insieme a word edit andremo ad inserire degli alberi In modo tale da rendere questa transizione un pelino più pulita Comunque iniziamo da ovest se non sbaglio Questo è... no questo è est Scusate questo è est vero? Adesso mi viene il dubbio Sì a est ragazzi non c'è più la taiga Ma bensì abbiamo un oceano ghiacciato Con tantissimi iceberg E questo oceano ci accompagna praticamente fino alla base di Gabbro più o meno Poi andando verso questa zona invece come potete vedere qua c'è il lago Che non è più un lago È diventato come potete vedere un fiordo Adesso abbiamo un fiordo davanti alla casa Alla base scusate E lì c'è una bella grotta che probabilmente andremo ad esplorare o in live O comunque in un prossimo episodio Infatti non è più un lago ma bensì è diventato un fiordo E questa cosa molto molto buona Perché come potete vedere adesso possiamo costruire lungo tutto questo fiordo E qua abbiamo una specie di penisola Abbiamo tantissimi progetti da fare Li faremo in live anche grazie al vostro aiuto Quindi mi raccomando cominciate qua sotto A consigliarmi cosa costruire qua Anche con le nuove feature della 1.18 Qua invece c'è la ferrovia ovviamente che porta da Gabbro Qua se ben vi ricordate c'era il villaggio C'è ancora il villaggio l'ho tenuto tranquilli E qua signore e signore non c'è più la taiga Ma bensì c'è una specie di plains ghiacciata Con la bella taiga e oceano ghiacciato Tanto per cambiare Qua dietro abbiamo appunto il villaggio che avevamo prima Dalla parte di là invece Verso ovest se non sbaglio Ecco questa purtroppo devo dirvelo È la zona che mi piace meno Perché se ben vi ricordate qua c'era Tutta la foresta di birch Adesso c'è questa specie di baia Che arriva praticamente dietro Alla vineria E qua dobbiamo un pochino aggiustarla Probabilmente è la zona dove Interverremo il prima possibile Perché non mi piace per niente questa zona Quindi faremo di tutto per modificarla Qua dietro di nuovo Oceano ghiacciato con degli iceberg Incredibili Qua una montagna senza senso Che probabilmente andrò a demolire Qua abbiamo una taiga ghiacciata Quaggiù come potete vedere è cambiato di nuovo Perché anche qua c'era la beach forest Dopo l'andremo ad aggiustare O comunque l'aggiusterò off camera E a fine vi farò vedere il risultato E qua poi c'è la ferrovia Che va verso la base di Tesla Però ragazzi questo praticamente è il cambiamento Abbiamo anche un iceberg Che è sì Buonanotte Un igloo che andremo ad esplorare Ecco la cosa negativa come vi ho detto È che purtroppo Minecraft ha fatto del suo meglio Per inglobare le nuove zone Però come potete vedere qua ci sono un po' di problemini Ma tranquilli che li andremo a risolvere tutti insieme E questo è tutto Questo è il contorno della nostra base Ovviamente non vi vado a spoilerare il resto della mappa Perché l'andremo a vedere poi durante gli episodi Abbiamo inserito anche Castelgranito all'interno delle nuove zone Insomma sono cambiate parecchie cose Praticamente intorno a tutte le basi dei membri della bio Sono cambiati È cambiato tutto Quindi ognuno ha nuove zone intorno a sé Ovviamente con la 1.18 ci saranno nuove caves Insomma le cose da fare ragazzi non mancano Assolutamente Quindi ragazzi cosa facciamo oggi Allora io per comodità adesso Mi vado a mettere giorno Perché vi voglio Questo praticamente è una specie di tutorial Su come utilizzare world edit Perché come vi ho detto Quaggiù A parte che c'è anche un piccolo problema Come potete vedere Non ho il mio inventario Per il semplice fatto che sia un po' gliciatina Questa cosa Praticamente dobbiamo risistemarlo E una volta fatto ciò Ridovrei avere tutte le mie cose Tranquilli Che lavorerò anche su questo Intanto 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 Direi di iniziare proprio da questa zona Allora come potete vedere qua Abbiamo Una foresta di Birch se non sbaglio Direi di sì Ora Quaggiù Si è generato un po' la cazzo Il terreno Quindi direi di aggiustarlo immediatamente Allora praticamente Grazie a world edit Possiamo fare questa cosa Con questo comando che voi non vedete Quindi Mi scuso Anzi direi che posso far così Me lo metto in 1080 Così dopo vedete Ok ragazzi stavo dicendo Grazie a questo comando Noi possiamo praticamente Generare delle foreste Di diciamo Vari tipi Ora vi faccio vedere un esempio Vedete forest gen E qui mi dice Tutte le foreste disponibili Noi Ovviamente andremo a mettere Rand Se non sbaglio Dovrebbe essere Birch No Perché Ah betulla Sì Rand birch Però dobbiamo mettere ovviamente Prima la size Io in questo caso metto 10 Poi il tipo Come mi dice E la densità Densità io metterei 5 Per vedere intanto come viene Adesso abbiamo il comando undo Per vedere di tornare indietro Facciamo invio E come potete vedere ragazzi Qua mi va a generare Tutta la foresta di birch Ora qua facciamo un po' un misto Come potete vedere qua Diciamo Non era proprio birch Però Tanto per cambiare un pochino Adesso noi ci mettiamo qua E andiamo di nuovo ad inserire Invece che birch Mettiamo Oak Dovrebbe esserci Esatto E mi va a generare la foresta di oak Ecco qua Vedete In modo tale da avere questa transizione Un pelino più pulita Ora Visto che abbiamo capito come funziona appunto il comando Possiamo fare anche invece che 10 Tipo 15 Fare così Ora mi ha messo sottoterra Cazzo Sono sotterrato Sono morto Praticamente Ok E vedete ragazzi Che loro Lui praticamente Finché dove c'è la terra Mi va a inserire le piante E diciamo Che posso continuare a fare così Finché non sono felice del risultato Perché comunque ragazzi Il lavoro da fare è parecchio Intanto questo Cos'è successo qui? Perché c'è un albero sopra un albero Questo lo spacchiamo Perché sia un po' gliciatino Ovviamente La versione di world edit È sempre in beta Perché non è ancora uscita Quella della 1.18 Quindi Abbiate pazienza Se è un po' gliciatino Ma dettagli Qua non so perché Mi continua Ah ma questo è proprio una Ah no non è un albero Minchia Proprio buggato Va bene Perfetto A me poi comunque Andrò a Aggiustare anche da solo Ok ragazzi Come potete vedere Ho appena finito Ho appena finito di fare Questa diciamo Parte di foresta Di birch Ora Ve l'ho detto Un po' gliciatina Alla sito Ma poi andrò ad aggiustare Off camera Perché anche andare ad aggiustare Gli alberi Mi sembra un po' eccessivo Adesso direi di passare qua Ecco da qua in poi Io direi che possiamo Metterci tranquillamente Anche la taiga Quindi facciamo Spruce Invece che cinque Facciamo quattro E come potete vedere Adesso qua Mi spona La spruce Vedete Ecco qua Ora quest'albero è buggato Ma Possiamo tranquillamente Farlo arrivare fino in fondo Ovviamente fin dove è possibile Ora Vabbè questo lo facciamo un po' storto Tanto non ci interessa Perfetto Perfetto ragazzi Ecco Questo è il risultato finale Praticamente di questa zona E come potete vedere Già Ha una vista Un pochino migliore Allora qua dove c'è la Pietra Tra virgolette Andrò a fare un replace Un sostituisci con la terra Perché comunque qua Come potete vedere È un po' buggata La situa con la pietra Però per quello Non è un problema Ora direi di spostarci Anche verso questa zona Perché mi sembra Che anche qua Dobbiamo un pochino Intervenire Ecco qua per esempio Io direi di continuare Con Con la oak A sto punto Tanto Oddio Potremmo fare anche betulla Però Non saprei dirvi Non sa No facciamo con la oak Tanto non è un problema Facciamo oak 8-5 In questo modo Ecco la oak Ragazzi purtroppo È un po' baggata Io non so come mai Ma mi mette gli alberi Sopra gli alberi Incredibile Stonks Pazzesco Ecco qua Però vabbè Noi la modifichiamo In questo modo Così siamo belle Che tranquilli Ovviamente ragazzi Mentre faccio questa cosa Volevo dirvi che Questa trasformazione Tra virgolette Del mondo Che ha Plasmato Le varie zone L'ha fatto direttamente Minecraft 1.18 Con il nuovo motore Di generazione Ha praticamente Plasmato A seconda di quello Che aveva intorno I vari biomi Quindi Può capitare Giustamente Che Giustamente Per colpa Di minecraft Tra virgolette Che vicino a un ghiacciaio Ci sia una mesa Perché vi assicuro Che c'è È così Però Ragazzi Almeno abbiamo Un risultato Abbastanza Guardabile Tra virgolette Quindi direi Che ci può anche stare Ora qua Vi faccio vedere Per esempio Facciamo un barra barra Replace near Facciamo di 10 blocchi Ok Da stone A grass Grass block Dovrebbe essere Esatto Così In questo modo Abbiamo praticamente La terra E cosa vuol dire questo Che Praticamente Possiamo andarci A mettere Le piante Perché se no Sopra la pietra Non ci andrebbero Cioè In teoria sì Però non è un gran che Quindi io preferisco Fare in questo modo Ora Qua Vediamo un pochino Fin dove si spinge Direi di fare Tutta terra Tanto Anche se ci rimane Un po' di Tra virgolette Minerali Per quello Non è un problema Tanto sotto gli alberi Non si vedono Ricordiamoci che poi Quando andiamo ad esplorare È normale Che ci siano dei minerali Sulla terra Tra virgolette Però Per ora Lasciamo Così Perfetto Come potete vedere Adesso è tutta terra E in questo modo Io vado di nuovo Quaggiù E mi faccio Un Forest gen Di oak 4 In questo modo E come potete vedere Mi genera Gli alberi E praticamente Io continuo così Finché Non ho finito Praticamente Ecco qua ragazzi Ecco Come potete vedere Adesso è già Diciamo Un po' meglio Tra virgolette In modo tale Da non esserci A proprio La linea netta Di separazione Ora Qua io ci provo Ma secondo me Mi si glitcha tutto Infatti Io per sicurezza Invece che 10 Faccio 5 Infatti Inutile Perfetto Vabbè Qua direi che possiamo Lasciare anche così E adesso Mi sa che ci rimane Solamente L'ultima zona Ovvero quella Verso la base Di gabbro Perché qua dietro Non credo Che si sia Glicciato qualcosa Se non sbaglio Per il semplice fatto Che se c'è la foresta Dovrebbe tenermi la foresta In teoria Infatti Qua come potete vedere L'ha plasmato da solo Ora io sto esplorando Un pochino in volo Ma poi ovviamente Andremo ad esplorare Anche in survival Con i vari episodi Le varie live Eccetera eccetera Ecco qua dietro Come potete vedere Ecco io non lo sapevo Abbiamo un'altra Zona ghiacciata Ma Dettagli Ormai siamo abituati Praticamente la nostra base È diventata Un ghiacciaio Qua ci sono delle api Che sicuramente Sono scappate Dalla mia zona Ok quindi Ci rimane solamente La zona Questa qua Dove è gabbro Quindi io faccio anche questa zona E appena finisco Vi faccio vedere Tutto il risultato Finale Ok ragazzi Io direi che abbiamo Praticamente finito Questa zona dove c'è il villaggio La lascerei così In modo tale Da avere anche una piccola pianura Mi rimangono solo Di piccoli alberi Da mettere lassù in cima Perché ci sono quelli tagliati Quindi purtroppo Non mi piace E direi di Andarli a modificare Ecco tipo qua Possiamo andarcene A mettere qualcuno Ora Magari invece che 10 Facciamo 8 3 3 3 3 Eccolo qua Perfetto Perfetto Ok anche qua su in cima E abbiamo praticamente Finito Sperando che non me le metta Sopra le altre piante In teoria no Anche qua stessa cosa E praticamente abbiamo finito Rimane soltanto Questo piccolo Pezzettino Qua E anche questa zona Ragazzi Come potete vedere È stata fissata Vi ho fatto vedere Un pochino Anche come vengono fatte Le cose Diciamo Off camera Quelle che andiamo a fare Per sistemare appunto I mondi E questo ragazzi Praticamente è tutto Adesso non ci rimane Altro che Tornare Alla nostra vecchia Vita Tra virgolette E ricominciare La nostra survival Nella 1.18 Vi volevo inoltre Ricordare che purtroppo Siccome la 1.18 È uscita da poco I plug in Delle indicazioni Della metro Non vanno ancora Così come il data pack Delle ferrovie veloci Quindi Al momento Siamo un po' Bloccati Tra virgolette Nella nostra base Perché per arrivare In un altro punto Ci vuole un botto Di tempo Però anche questo Verrà risolto E ragazzi Praticamente Questo è tutto Nel prossimo episodio Non so cosa faremo Vi dico già che Siccome lo registro adesso Non abbiamo ancora Il nostro inventario Ma per questo ci lavorerò Non vi preoccupate Tanto per la prossima cosa Che faremo Sicuramente non ci servirà L'inventario Assolutamente E ragazzi Che dire Io vi saluto Fatemi sapere Se questi episodi Diciamo dove vi faccio vedere Anche come viene strutturata La cosa Della talk Quando sistemiamo Le varie cose All'interno del server Vi piacciono E niente Noi ci vediamo Al prossimo giorni Con un nuovo video Con un nuovo live streaming Quanto amete è tutto Bella